Ciao a tutti, oggi registrerò il video dei preferiti del mese di maggio sempre Food Edition, è ormai un appuntamento fisso ogni mese in collaborazione con i miei carissimi amici Mauro e Antonio del canale 55Wiston55 e Ombretta Gabriele del canale 2Q1K quindi partiamo subito con le domande così non perdiamo altro tempo la prima, il prodotto apri e gusta allora vi voglio mostrare questo lì dice la bc della merenda è una scatoletta contenente il succhetto di frutta, anzi il frullato alla pesca i grissini e il dadino di parmigiano reggiano buonissimo ragazzi questa scatoletta contiene tutto al suo interno, è piccolina però vi devo dire che è un'ottima merenda perché è sazia alla grande quindi dice che ha appunto le vitamine del frullato i carboidrati dei grissini e il calcio del dadino di formaggio questa merenda mi è piaciuta tantissimo e poi costa anche poco, costa un euro solo e quindi lo sto acquistando spessissimo mi piace troppo gustarlo così all'aperto poi domanda numero 2 il cibo straniero del mese allora come cibo straniero del mese ho mangiato tantissimi cioccolati finlandesi i dolcetti finlandesi e infatti adesso ve li mostro sono questi geisha questo è al latte e alle nocciole questo è fondente e poi questi due muffin che sono alla fine del mondo buonissimi uno è ai mirtilli e un altro è al caramello ed erano veramente enormi grandi come la mia faccia buonissimi e dice original american taste e poi quest'altro cioccolatino particolarissimo che però non mi ha fatto impazzire questo perché comunque rimaneva troppo gommoso troppo appiccicato ai denti e poi come altro cibo straniero sempre in Finlandia nell'albergo hanno servito questa carne fatta col sughetto e mi è piaciuta tantissimo poi ho chiesto che carne era e mi hanno detto che era carne di renna quindi sono rimasta sbalordita ho mangiato la carne di renna non l'avrei mai detto mai pensato comunque mi è piaciuta era tenerissima si scioglieva in bocca poi domanda numero 3 il flop delusione del mese più che flop è stata una delusione perché riponevo tantissime aspettative su questo prodotto e mi ha deluso tantissimo questo burger della marca Chioene ai carciofi e pomodori secchi questi sono due porzioni sono due hamburger grandi mentre questi vedete erano dei mini burger ed erano 4 vi ricordate ve li avevo mostrati nel video What I Ten A Day quindi con l'esperienza positiva di questi ho voluto acquistare anche questi però mi hanno deluso tantissimo ci volevano 3 litri d'acqua per scenderli troppo salati ragazzi sicuramente deriva dal fatto che contengono pomodori secchi almeno penso comunque non mi sono piaciuti proprio per il per il troppo salato e anche perché di carciofo non sapevano niente quindi non c'è paragone con questi questi sono la fine del mondo troppo buoni infatti probabilmente riacquisterò sempre questi anzi ne ho altri due nel frigo che sono alla zucca e l'altro alle melanzane e li devo provare poi vi recensirò anche quelli sono curiosa domanda numero 4 la ricetta del mese come ricetta questo mese cioè il mese scorso dico sempre questo mese il mese di maggio è stato il mese della torta alle carote e mandorle quella senza burro e senza lattosio che buona ragazzi e poi con lo zucchero di canna più stevia è la fine del mondo ho fatto anche la ricetta infatti vi lascerò il link e la foto da qualche parte qui nel video mi sta piacendo tantissimo mi è piaciuta e mi sta piacendo perché la sto continuando a fare per la colazione è favolosa dovete provarla assolutamente poi è leggerissima è sana è golosa allo stesso tempo quindi anche in famiglia ne vanno tutti matti poi domanda numero 5 la scoperta fissazione del mese come scoperta e mi sono anche un po' fissata sì diciamo di sì è stata la cottura delle uova in camicia sono rimasta sbalordita perché non avevo mai provato a cuocere le uova così e col metodo che avevo già fatto già provato nel video dei Subani Fratau vi ricordate vi lascerò anche qui la foto e la ricetta nel video mi sono accorta che mi piace l'uovo in camicia ecco e poi dà talmente tanta soddisfazione prepararlo perché innanzitutto è velocissimo e poi è bello perché mescoli velocissimo crei il vortice all'interno del tegamino metti ovviamente il cucchiaio d'aceto per far avvolgere bene l'albume per appunto farlo avvolgere al tuorlo e cuoce in tre minuti ovviamente dopo che l'acqua sta bollendo buonissimo è leggero è gustoso allo stesso tempo sembra che ci sia talmente tanto condimento invece si può mangiare anche così semplice proprio con un uovo bollito però fatto in camicia così lo rende tipo mozzarella non so è bello anche da vedere in quel senso quindi ti fa piacere ancora di più mangiarlo poi domanda numero 6 l'acquisto del mese sono andata da casanova e non potevo rimanere indifferente di fronte a questa tovaglia troppo carina guardate quanto è bella mi è piaciuta tantissimo ha questo stile un po' non lo so tipo antico con queste scritte così non so mi è piaciuta molto per la cucina ed è una tovaglia antimacchia 140x140 vedete l'ho pagata anche poco rispetto al prezzo originale carinissima quindi la vedrete prossimamente nei miei video delle mie ricette poi altra domanda frutta e verdura del mese come frutta ho mangiato tantissime albicocche e le sto continuando a mangiare perché adesso è periodo e non me le voglio perdere io amo le albicocche poi oltretutto fanno anche abbronzare adesso che arriverà il periodo in cui andrò più spesso al mare sperando appunto che il tempo rimanga così che continui a fare questo bel caldo perché abbiamo passato delle settimane anche qui a Cagliari di tempo ballerino quindi alternava pioggia vento forte nuvole invece adesso in queste giornate c'è un bellissimo sole quindi sono contenta e quindi me le porterò al mare e mangiate così a merenda in riva al mare sono la fine del mondo buonissime poi invece come verdura del mese ho mangiato tantissimi pomodorini a ciliegina quindi quelli piccoli 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 minuscoli sono dolcissimi mi piacciono così proprio come delle ciliegie uno tira l'altro poi domanda numero 8 lo spezzafame del mese e qui vi voglio mostrare dove le ho messe vi voglio mostrare questo pacchettino di noci sgusciate della marca Noberasco queste le ho classificate come spezzafame del mese perché ne ho portato tre pacchetti in Finlandia e sono state la mia salvezza nel senso che stando lì tutto il giorno al palazzetto non potevo mangiare solo cioccolati e schifezze vabbè chiamiamole schifezze buonissimi però volevo qualcosa che mi desse proprio il senso di pienezza e mi togliesse questa fame è paurosa perché appunto stando lì tutto il giorno al palazzetto non potevamo pranzare quindi dovevamo portarci dei panini dall'albergo e comunque dovevi stare lì appunto dalla mattina presto fino alla sera per cui facevi colazione e poi cenavi direttamente in quel senso e quindi queste sono state la mia salvezza mi davano quel senso di pienezza giusto quindi non mi appesantivano e erano proprio buone da sgranucchiare quindi ci passavo anche il tempo domanda numero 9 la ricetta che desideriamo realizzare ma che non abbiamo ancora fatto ebbene io vorrei realizzare una ricettina sarda si chiamano le panade le panadine o le panade quindi o in formato grande o in formato mini sono buonissime le ho sempre mangiate nei ristoranti e quindi voglio cimentarmi e provarle a realizzare a casa sono delle specie di cestini di pane fatti proprio con la pasta struttata quindi di strutto e all'interno contengono possono contenere la carne possono contenere i piselli possono contenere le anguille possono contenere un mix di verdure sono buonissime e poi vanno fritte vanno richiuse come un cestinetto quindi con una specie di ricamo tutto ai bordi per chi ancora non ne avesse sentito parlare non le conoscesse spiego bene come vengono fatte e quindi hanno il coperchio e tutto attorno questa specie di trecciolina che crea questa bella decorazione proprio a mo' di cestinetto sono la fine del mondo quindi vorrei trovare il tempo di provarle prima da sola e poi dopo se escono bene di registrare anche la ricetta per voi poi domanda numero 10 l'alimento panacea del mese l'alimento panacea cioè quell'alimento grazie al quale noi ci siamo sentiti meglio e che ci sembra che ci faccia stare meglio sono stati questi succhetti di frutta anzi ops mi sono volati dalle mani ne mostro solo uno va più che altro più che succo di frutta è una spremuta ad ananas fresco dice non da concentrato della marca Stirlgarda mi fa sentire meglio nel senso che non mi appesantisce mi dà quella sensazione di freschezza d'estate poi lo metto nel frigo adesso che viene il caldo lo metto nel frigo e lo bevo così freddo da frigorifero è buono 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 ragazzi anche questo se lo trovate dovete provarlo adesso il video è terminato spero che le mie domande vi siano piaciute anche le risposte ovviamente andate mi raccomando a vedere il video dei miei carissimi amici io adesso vi rimando al prossimo video ciao